Soltanto questo Ecco, esatto E comunque dovresti votare per... Eh, infatti What the fuck? Ok Ragazzi, è arrivato TurboFa e abbiamo scoperto un bug del gioco, un glitch Sono sopra la stanza Cioè, sono sopra la stanza, altrimenti La stanza è qua sotto, in basso E io sono sopra la stanza What the fuck? Ok, questo va negli highlight, ragazzi Highlight di questo pezzo Subito Ora voglio vedere se c'è un modo per uscire da qui Senza Resettare la partita Forse no È buggato Ok Questo comunque è highlight subito Cioè, a fine live, poi questo negli highlight Ok Resetto la partita Perché si è Si è buggata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti